ciao a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia ed oggi voglio consigliarvi nove libri e naudi che secondo me andrebbero presi in considerazione in occasione dello sconto del 20 per cento che la casa editrice fa in questo periodo non ci sono all'interno di questa scontistica tutti i titoli infatti mi sono dovuta limitare e li ho cercati tutti quindi questi titoli che vi citerò sono sicura che rientrano all'interno di questa scontistica altri purtroppo li ho dovuti togliere perché non venivano scontati ci tengo a specificare che in alcuni casi alcuni titoli che vi citerò sono effettivamente i titoli più citati all'interno di queste liste perché effettivamente secondo l'opinione più comune sono dei libri che meritano di essere letti o quantomeno meritano di avere una chance quindi mi perdonerete infatti ero indecisa se fare o meno questo video ma siccome me l'avete richiesto allora ho detto ok intanto facciamolo inseriamo all'interno anche dei titoli che comunque si sentono spesso e poi eventualmente l'anno prossimo mi impegnerò a trovare dei titoli un po' più nascosti allora l'ultimo in realtà non lo cita nessuno per un motivo abbastanza logico quindi ve lo lascio per ultimo partendo invece col primo diciamo che questo è uno dei titoli più nominati persone normali di Sally Rooney in realtà questo titolo divide molto gli animi perché non c'è la via di mezzo o lo ami o lo odi personalmente io l'ho amato ho trovato la storia di due protagonisti che continuano a rincorrersi praticamente fin dall'adolescenza molto toccante molto significativa per quanto riguarda la mia generazione che è la generazione dei millennial io sono tornata un po' adolescente vi dico la verità con questo libro perché ero lì dai che vi mettete insieme dai che ce la fate dai che siete tanto carini cosa che non succede mai perché come sapete io e i romance siamo anni luce di distanza gli uni dagli altri però questo non è effettivamente considerabile un romance perché ci sono delle problematiche di dialogo di comunicazione importante all'interno di questo libro i due personaggi principali non riescono a comunicare pur trovando senza usare necessariamente le parole conforto l'uno dell'altro l'uno è il porto sicuro dell'altro ed è la persona a cui ricorrono quando si sentono perdute ci sono poi anche all'interno di questo libro tante tematiche di per esempio differenze sociali sia dal punto di vista di ceto sociale ma anche dal punto di vista di socialità infatti vediamo all'inizio che uno dei personaggi è quello più escluso e poi in un secondo momento è l'altro quello che diventa l'outsider diciamo così della situazione è un libro secondo me che spiega molto bene anche determinate dinamiche che possiamo trovare in delle relazioni tossiche fa giusto degli accenni non troppo approfonditi perché comunque sia non è la tematica principale del romanzo considerando comunque che la relazione tra i due personaggi principali stessa non è una relazione propriamente sana ecco comunque puzza un po di relazione tossica possiamo dire così certe cose che si fanno a vicenda non sono proprio belle però comunque sia è una storia che a me è piaciuta ripeto non a tutti ragazzi non ci posso fare niente sono tornata adolescente con questo libro e proprio c'avevo la ship per questi due per me si dovevano mettere insieme stavano bene c'è anche una serie tv oltretutto molto carina che però io non ho visto però ho sentito parlare molto bene non so bene però anche piattaforma comunque questo intanto è il primo libro ed è un libro citatissimo come è citatissimo anche se i gatti scomparissero dal mondo di kawamura genki un libro che io in realtà consiglio di leggere nei momenti in cui ci sentiamo un po persi un po avviliti nei confronti della vita infatti ve l'ho anche inserito nei miei libri consigliati per iniziare bene l'anno perché innanzitutto un libro che si legge veramente in pochissimo tempo poi io almeno quando l'ho acquistato costava 10 euro quindi col 20 per cento l'ho pagato 8 euro un prezzo rispettabilissimo ora dovrei guardare per essere una persona seria ma perdo troppo tempo quindi non so se è aumentato perché purtroppo come sapete i prezzi dei libri aumentano ogni anno e io questo libro se non erro l'ho letto nel 2022 è una storia veramente molto toccante ma quel toccante simpatico quel toccante che ti intenerisce di un uomo un ragazzo di appena 30 anni 33 se non ricordo male che fa un lavoro semplicissimo una vita normalissima anche abbastanza monotona se vogliamo dirla tutta infatti questo ragazzo ha come unico compagno di vita un gatto che si chiama cavolo a cui viene diagnosticato un male incurabile e scopre che il giorno dopo per lui sarà la fine morirà perso in questa notizia una volta arrivato a casa troverà ad aspettarlo un suo sosia che altri non è che il diavolo che lui chiamerà amichevolmente aloha perché questo suo simile si veste completamente al contrario di lui lui è una persona molto grigia anche nel modo di presentarsi e al contrario il diavolo si veste con camicia waiane insomma tutto molto allegro ed è anche simpatico in quanto al contrario di lui che è una persona abbastanza timida è molto carismatico quindi c'è questo botta risposta in cui il diavolo gli propone un giorno di vita in più ogni qual volta lui dovesse decidere di far sparire un qualcosa dal mondo ovviamente questo qualcosa non lo può decidere lui quindi non può decidere la cosa più inutile del mondo che tanto non si fila quasi nessuno ma sono cose che gli vengono proposte dal diavolo che appunto all'inizio magari gli dice vuoi far sparire questa cosa oppure quest'altra e lui lì per lì dice di sì poi però si rende conto vivendo la giornata in più che gli è stata concessa che questa cosa magari non era importante per lui ma era importante per altre persone di sua conoscenza a cui magari vuole bene e arriverà al punto in cui gli verrà proposto di togliere dal mondo i gatti quindi anche il suo amato compagno cavolo quindi per concludere è un libro veramente toccante che ho letto letteralmente in una sera mi ha tenuto veramente una piacevole compagnia vuol dire tanto perché vuol dire tanto perché ci insegna ad apprezzare anche le piccole cose della vita anche quelle che ci sembrano insignificanti e soprattutto che se sono insignificanti per noi non vuol dire che lo siano magari per le persone a cui vogliamo bene e nulla io comunque lo consiglio sempre perché effettivamente nonostante sia citato tantissimo è un libro da non sottovalutare ecco sembra una storia un po così ma in realtà ci dice veramente tanto passiamo ora a un libro che forse non ho sentito citare tantissimo la paziente silenziosa di alex michaelides questo è un thriller un thriller psicologico di una donna che viene presa sotto l'ala di uno psicologo che decide di farla uscire dal suo mutismo infatti questa donna non parla da non mi ricordo se sei anni a seguito di quello che sembrerebbe essere stato l'omicidio del marito avvenuto per sua mano nel senso che hanno ritrovato il marito legato ad una sedia con dei colpi di pistola quindi morto a causa di quelli e la donna quindi la moglie di fronte a lui in piedi con la pistola in mano e dei solchi molto profondi sui polsi il caso è stato chiuso come un omicidio e tentato suicidio appunto non riuscito perché la donna è stata salvata ma la verità in realtà non si sa perché la donna da quel momento ha smesso di parlare e non ha più profferito parola anche a seguito del suo trasferimento in un ospedale psichiatrico in cui ha avuto modo di far uscire anche certi lati del suo carattere molto aggressivi questa donna era una famosa artista e questo psicologo cercherà di convincere i suoi superiori che la chiave per comprendere davvero cosa è successo sia di far dipingere di nuovo questa donna quindi di cercare di farla comunicare quantomeno con quella che era la sua arte e attraverso appunto i suoi quadri usciranno fuori delle cose molto strane vediamo lo psicologo che ci racconta sia le vicende di questa donna mischiandole con suoi fatti personali infatti lo psicologo come viene appunto detto all'interno di questo romanzo poi in realtà è una cosa che mi è stata confermata anche in separata sede ha deciso di intraprendere questo lavoro proprio perché in passato nella sua infanzia nella sua adolescenza ha subito comunque sia delle cose brutte che l'hanno portato a volersi capire un po da solo e quindi poi di conseguenza a studiare psicologia quindi ci sono delle volte in cui questi due fatti si mescolano le vicende portano magari a galla dei ricordi dello psicologo eccetera eccetera è una storia veramente intrigante più che altro perché ti porta comunque a tutta una serie di conclusioni che poi non sono quelle alla fine c'è veramente un colpo di scena spettacolare che io non mi sono assolutamente immaginata è un libro scritto anche molto molto bene quindi vi dico la verità è una storia thriller che mi è piaciuta molto mi ha colpito e sicuramente il punto forte di questa storia è stato proprio il fatto che lo psicologo non sia riuscito a mantenere le adeguate distanze dalla storia della sua paziente quindi è una storia che vi consiglio come vi consiglio un libro che in realtà io personalmente ho già citato diverse volte l'invenzione di noi due di matteo bussola a me bussola personalmente piace tanto scrive secondo me delle storie molto tenere ma con un significato abbastanza profondo all'interno infatti in realtà c'era anche un altro libro che vi volevo consigliare in questa lista di suo ma non è scontato quindi non ce l'ho potuto infilare vabbè fatto sta che l'invenzione di noi due è il racconto di una coppia sposata che ormai è raggiunta un po al capolinea quindi in una situazione di stallo di monotonia tale che ha portato la moglie a disinnamorarsi del marito che non accetta questa perdita si può dire di sentimento da parte della compagna e quindi decide di fingersi un altro uomo e di scrivere una mail alla moglie parlando di dei suoi problemi ovviamente facendo finta che la mail sia stata scritta per errore ecco che abbia inviato questa mail alla persona sbagliata la moglie comincerà a rispondere e quasi ad iniziare una relazione con quest'uomo in quanto nonostante non si siano mai incontrati cominciano a scambiarsi numerevoli confidenze quindi si arriva al punto in cui il nostro protagonista si ritrova in trappola perché vorrebbe dirle la verità ma d'altra parte non può perché è come se lui fosse lo stesso amante della moglie si può dire così quindi è un libro veramente molto tenero mi piace il fatto che comunque Matteo Bussola ci abbia anche raccontato come è scoccata la scintilla per mettere in paragone proprio il presente col passato cioè il momento in cui l'amore inizia rispetto al momento in cui l'amore sta finendo sta terminando e ci dà tutta una serie di spiegazioni attraverso appunto il botta e risposta che avviene tra questi due personaggi via mail sul perché spesso e volentieri l'amore finisce sul perché due persone che si sono tanto amate arrivino ad essere quasi due stranei e su quanto perdiamo di noi stessi quando decidiamo di intraprendere una relazione con un'altra persona e su quanto questo sia sbagliato perché la persona si è innamorata di noi perché eravamo in un certo modo se improvvisamente in nome della coppia ci annulliamo completamente noi non siamo più la persona di cui l'altro si è innamorato e quindi l'amore finisce ci sono tante cose significative che ci vengono spiegate proprio ci vengono dette apertamente all'interno di questo libro il finale lo stesso è abbastanza inaspettato devo dire io stessa mi aspettavo finisse in un altro modo non è stato così non mi ha comunque dispiaciuto perché anche il finale stesso ha avuto un significato importante secondo me quindi è un libro che vi consiglio comunque c'è un libro su cui secondo me bisogna buttare un occhio nonostante la storia possa sembrare abbastanza banale poi passiamo a un libro che mi è piaciuto tanto che sicuramente non consiglio a tutti che ho postitato anche parecchio se potete vedere e che ha in realtà messo in confusione molte persone trilogia della città di capa di agota kristoff ora io sinceramente quello che è successo all'interno di questo libro l'ho abbastanza chiaro cioè molte persone si sono dette confuse dal finale io questa confusione non l'ho trovata anzi ho trovato delle spiegazioni che hanno dato alcune persone nei confronti di questo finale un po strane non so come siano arrivate a certe conclusioni ecco io sarà che sono abituata a leggere thriller di conseguenza non è stato complicato per me arrivare alle conclusioni che penso siano corrette dal momento che ripeto comunque ci vengono dette chiaro e tondo comunque parlando della storia siamo in un tempo x in un luogo x si presuppone faccia parte di delle zone dell'est durante una guerra x non ci vengono date indicazioni precise addirittura i nomi dei due protagonisti principali non ci vengono riferiti nel primo libro infatti questo è un romanzo che è diviso in tre che poi è stato unito i protagonisti di questa storia sono due gemelli che vengono lasciati dalla madre a casa della nonna perché non può badare a loro in quel momento questa nonna non è la dolce nonnina delle favole che siamo abituati a vedere a conoscere ecco ma è una donna estremamente sgradevole che approfitta di questi ragazzi in tutti i modi possibili e che li tratta malissimo come se non bastasse questi giovani vedendo la situazione tragica della vita in generale decidono di sottoporsi a delle prove di resistenza sia fisica che psicologica a vicenda magari si costringono al digiuno si insultano a vicenda per essere resistenti agli insulti delle altre persone eccetera eccetera sicuramente il primo libro è quello più crudo a parer mio in quanto i ragazzi sono ancora giovani se non erro hanno intorno ai 12 13 anni o forse anche meno ed essendo così giovani e spesso e volentieri abbandonati a loro stessi alcuni personaggi approfittano di loro è una cosa che non succede in realtà solo nel primo libro ma nel primo libro secondo me è il momento più crudo ecco quando queste cose succedono più spesso ed effettivamente la parte forse un po più disturbante la cosa particolare che ogni libro di questa storia viene scritto con una persona diversa nel primo libro si scrive in prima persona plurale perché questi ragazzi parlano come se fossero un'unica identità e si chiama il grande quaderno quindi ci fa pensare che questo sia in realtà uno scritto dei ragazzi che loro tenevano come esercizio appunto quindi loro avevano questo quaderno dove scrivevano diverse loro avventure alcune vere altre no quindi questa è una cosa importante da dire quindi questo ci fa pensare che il primo libro che leggiamo sia effettivamente un racconto dei ragazzi che non si nominano mai e agiscono sempre insieme fino ad arrivare a un punto di separazione dove inizia il secondo libro che ci viene raccontato in terza persona singolare quindi vediamo uno dei due personaggi come si muove e che cosa gli succede nel terzo libro invece andiamo alla prima persona singolare quindi c'è uno dei personaggi che inizia a parlare in prima persona e che ci racconta ovviamente sia nel secondo che nel terzo libro i personaggi sono cresciuti quindi sono ormai adulti e nel terzo libro si arriverà effettivamente a una risoluzione di quello che è successo perché nel secondo abbiamo notato qualcosa che non andava cioè nel secondo alcune cose che ci sono state raccontate nel primo non tornano cominciano a puzzarci ecco quindi questo per dire che è un libro con un narratore inaffidabile un libro su cui bisogna stare attenti perché ci renderemo conto di diverse contraddizioni nel mentre che lo leggiamo tuttavia è una storia che accalacchia proprio per questo lettore perché io in certe parti proprio mi sono ritrovata a scrivere ma non aveva detto che punto di domanda cioè mi sono segnata proprio le cose che non tornavano motivo per cui ci sono tantissimi post it per avere chiarezza e per riuscire a interpretare meglio quello che stavo leggendo in realtà tutto sommato alla fine secondo me si capisce molto bene però mi rendo conto che possa spiazzare un pochino questa cosa quindi sia il passaggio di personaggio in personaggio o visione in generale della storia sia il fatto che già dall'inizio comunque i personaggi principali ci avvisino che non tutto ciò che leggiamo è vero cioè ce lo dicono proprio so che magari lì per lì prendiamo questa cosa sotto gamba perché ce lo stanno dicendo dei bambini ma in realtà questa cosa è presente in tutto il romanzo ed è secondo me stata la genialità di agota christophe quindi questo libro è semplicemente la vita di questi ragazzi la loro tragica e traumatica vita è sicuramente un libro forte un libro che non consiglio a tutti soprattutto tenete conto che c'è molta violenza anche e soprattutto nei confronti dei bambini quindi occhio ecco se siete persone sensibili sotto questo punto di vista due libri che prendo insieme perché sono dello stesso autore philip rott io in generale dopo aver letto questi due libri vi consiglio di prendere qualunque cosa di philip rott cioè anche la lista della spesa per me potrebbe andare bene io ho letto due dei suoi più famosi uno oltretutto l'ho letto di recente me l'avete già sentito citare nel wrap up di questo mese del mese di febbraio e parliamo appunto di lamento di portanoi e il secondo invece è la macchia umana che è il libro che me l'ha fatto conoscere allora philip rott ha secondo me un tipo di scrittura meravigliosa poetica e perfetta letteralmente perfetta ed è fantastico il modo in cui riesce ad unirlo a degli argomenti estremamente controversi e spesso e volentieri volgari io comunque non posso sbilanciarmi troppo nel senso che mi rendo conto che non avendo letto gli altri libri non posso parlare per tutti però questi due libri secondo me se avete anche una cultura dal punto di vista di società americana molto ampia sono da leggere sono due libri che parlano di incapacità di omologazione nella società chi in un modo questo è proprio il più rappresentativo dei due sicuramente e invece la macchia mana in un altro sicuramente in un modo decisamente più tranquillo meno volgare meno spinto rispetto a questo però comunque si parla di incapacità di coesione di un personaggio il protagonista di entrambi i romanzi che sono ovviamente due protagonisti diversi nei confronti della società nel lamento di port noi ne parlo brevemente visto che comunque si hanno già parlato abbondantemente in questi giorni è il racconto di un erotomane ebreo che va dall'analista e spiega tutti i tormenti della sua esistenza e di come l'essere ossessionato dal sesso ed essere ebreo abbia complicato le cose perché le due cose sono incompatibili e lui non si sente a suo agio né in una situazione né in un'altra non può soddisfare le aspettative della famiglia ebrea eccetera eccetera che comunque una famiglia disfunzionale con delle repressioni forti che poi riversano anche sui figli perché lui ha sviluppato con gli anni quasi un rifiuto nei confronti della sua stessa religione e d'altra parte però non si sente neanche soddisfatto dal punto di vista della sua sessualità perché si rende conto di essere malato si rende conto che non può vivere una vita serena e soddisfacente assecondando tutti i suoi istinti ma d'altra parte non riesce a trattenersi soprattutto in giovane età e soprattutto non riesce a comunque stare con un'unica donna quindi non riesce a mettere su famiglia insomma tutte cose che lui sente di dover volere ma in realtà poi non vuole però questo va in contrasto anche col suo stesso lavoro che lo porta ad essere un personaggio quasi pubblico insomma quest'uomo non ha pace da nessuna parte non riesce a trovare pace né in ciò che gli piace né in ciò che è cresciuto e non riesce a trovare un'unione nelle due cose ma quantomeno non riesce neanche a dire ok sto solo da questa parte e sto bene no non ce la fa perché non sta bene da nessuna parte e per questo diventa pazzo e va a finire dall'analista invece nella macchia mora di Philip Roth la situazione è decisamente più sottile si può dire così vediamo questo professore universitario prossimo alla pensione che per descrivere in una situazione particolare in cui degli studenti non sono presenti in aula diciamo che usa una parola che in inglese può voler dire due cose lui la utilizza nel modo più innocente quindi col suo significato principale ma essendo che questi due studenti lui non ha mai visto incontrato sono neri di pelle questa parola viene presa e portata al suo significato razziale quindi il professore verrà allontanato dall'università pur sapendo pur essendo chiaro che lui non voleva offendere nessuno e questo scatenerà tutta una serie di eventi che porteranno alla morte della moglie all'inizio della sua relazione con una donna di della metà dei suoi anni donna che ha avuto lo stesso anche lei tutta una serie di problemi insomma si crea una situazione grottesca e surreale che porta il nome di quest'uomo che fino a quel momento è sempre stato una persona molto rispettata nel suo ambiente ad essere sulla bocca di tutti ma in senso negativo quindi racconta di falso pervenismo di come alle persone piaccia parlare inventarsi cose pur di parlare del dell'argomento principale del momento è una storia veramente strana e devo dire che se già in lamento di port noi comunque si vede come philip rot si concentri tantissimo sui suoi personaggi in questo caso forse si vede ancora di più perché non si concentra solo su un personaggio quindi sul personaggio principale ma si concentra anche su quelli che sembrerebbero essere i personaggi secondari ma che poi piano piano cominciano a prendere campo anche all'interno del libro e cominciano a diventare quasi dei personaggi principali anch'essi e philip rot gli dà voce in maniera perfetta secondo me si riesce proprio ad entrare nella testa dei personaggi sia nei personaggi più normali che nei personaggi che invece hanno subito comunque delle cose che li ha portati ad essere un pochino più disturbati tipo qua c'è anche un reduce di guerra non vi sto a dire il suo ruolo per non fare spoiler tuttavia è importante ed è significativo vedere anche come philip rot riesca ad entrare bene anche nella testa di alcuni personaggi che non stanno evidentemente bene psicologicamente ecco quindi sono due libri che mi sono piaciuti tanto mi dispiace solo che probabilmente non ho la preparazione giusta per comprenderli appieno però mi sono piaciuti un sacco e ve li consiglio ma io vi dico la verità ho su vinted ho trovato un venditore che vendeva i libri di philip rotta tipo 3 4 euro l'uno e ho fatto scorta perché leggendo il secondo libro ho avuto conferma della bravura di philip rotta e quindi niente voglio leggere sicuramente altri suoi romanzi non potevo lasciare lì quei belli brini che venivano venduti a 3 euro l'uno poi per ultimo libro la città dei vividi nicola la gioia voi me lo vedete in edizione rigida perché io così l'avevo trovato all'usato in realtà c'è anche in questa edizione ed è scontato ho visto quindi in questo libro nicola la gioia ci racconta di un evento tragico avvenuto nel 2016 a roma quindi è un reportage di un fatto realmente accaduto in cui due ragazzi appena trentenni si ritrovano a torturare e da uccidere un loro coetaneo possiamo dire così no un ragazzo leggermente più giovane se non erro parliamo dell'omicidio di luca varani sicuramente qualcuno l'avrà già sentito citare riguarda questa storia nicola la gioia ha fatto anche un podcast so che molti l'hanno ascoltato e vi è piaciuto molto anche il libro devo dire fatto molto bene ci sono sicuramente tantissime testimonianze il nicola la gioia è entrato molto dentro la storia anche se è riuscito a mantenere secondo me un certo grado di professionalità e distacco e al fine di spiegare bene quelle che sono le sue sensazioni nei confronti di questa vicenda ha ascoltato veramente tantissime testimonianze di tantissime persone che conoscevano sia la vittima che i carnefici per poi arrivare alle conclusioni che i due carnefici sono due persone che sono stranamente arrivate a un gesto del genere solo per il fatto di essersi trovati insieme in una situazione alterata quindi con droghe e alcol perché presi singolarmente tutto sommato nella maggior parte dei casi sono delle persone che non avrebbero fatto una cosa del genere ed è questo il messaggio ultimo secondo me di nicola la gioia cioè lo spiegarci che a volte le persone che non farebbero mai del male a una mosca si ritrovano in certe situazioni con altre persone e scattano qualcosa non stiamo parlando di serial killer in questo libro stiamo parlando di persone normali sicuramente con innumerevoli problemi anche a livello psicologico che però hanno avuto un'esplosione di violenza in questo caso nei confronti di questo ragazzo solo perché si sono trovati insieme e in una situazione sbagliata nel suo insieme ovviamente non è una giustificazione questi due ragazzi hanno fatto una cosa terribile e infatti si arriva anche a sfiegare come sia inutile star dietro a ciò che faceva anche la vittima infatti in questa vicenda si raccontano anche tante voci che sono girate nei confronti di Luca Varani quindi la vittima di questi due ragazzi e di come in certi casi si sia andato quasi al tipico eh vabbè ma magari un po' se l'è cercata perché faceva questa vita Nicola la gioia ce lo dice chiaro e tondo non deve fregarcene niente a noi di quello che faceva la vittima perché rimane una vittima sicuramente il ragazzo non voleva morire quindi non ci deve fregare niente di quello che faceva nella sua esistenza ci deve solo importare del fatto che ha perso la vita per mano di altre due persone evidentemente con dei problemi quindi eh dice tante cose magari a volte sbilanciandosi a magari a volte possiamo essere d'accordo altre volte no tuttavia devo dire che il reportage merita sicuramente anche solo per cultura personale è stato sicuramente uno dei casi che ha fatto più audience e più parlare di sé negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda anche la crudeltà di ciò che è successo del modo particolare in cui è avvenuto questa cosa e soprattutto per il fatto che eh questo ragazzo è morto ha perso la vita senza un motivo non non c'era un astio nei suoi confronti un desiderio di vendetta eh questi ragazzi hanno fatto questa cosa orribile senza alcun motivo apparente ed è un fatto che va conosciuto personalmente io non lo conoscevo così bene lo conoscevo por parler ma entrare dentro questa storia mi ha angosciato da una parte ma ha reso molto più consapevole dall'altra di ciò che l'animo umano può tirare fuori in situazioni anche alquanto inaspettate ora fermi tutti fermi 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 vegan di leonardo caffo allora voi come sapete sono vegana non voglio fare il predicozzo rompipalle dei vegani vi voglio semplicemente dire che questo libricino molto breve di 120 pagine però secondo me spiega molto bene che cosa si cela dietro la filosofia vegana all'interno di questo libro leonardo caffo spiega molto bene e senza giudizio alcuni dei nostri punti di vista cioè a me andrebbe bene anche solo che una persona che magari decide di leggere questo libro vi dicesse ah ora ho capito il perché non è un libro che io vi consiglio perché voglio farvi diventare vegani poi se succede ben venga semplicemente vi spiega come e perché questa filosofia è nata che cosa sta dietro ciò che la società comunque non ci vuole far vedere spesso e volentieri in maniera molto tranqui ho detto sentivo amore cos'è c'è vieni qua amore mio amore ciao cosa c'è ti sei svegliato adesso e ti vedi un po' rincopinco eh comunque stavo dicendo in maniera molto tranquilla in maniera molto rispettosa spiega il perché di certe scelte e il perché alcune scelte appunto contrarie resistano spiega cosa vuol dire antispecismo insomma spiega tutta una serie di cose che secondo me anche solo a livello di cultura personale è bene conoscere con lo sconto costa poco più di otto euro forse forse neanche ed è veramente breve si legge in una sola seduta io voglio consigliarvelo poi pensate quello che volete per quanto mi riguarda mi ha veramente istruita su molte cose anche dopo aver fatto questa scelta di vita ed è anzi un libro che una volta che ho deciso di consigliarvelo ho deciso di rileggere perché appunto voglio un attimo rispolverare le informazioni che ho imparato da questo libro quindi spero che questi consigli vi siano piaciuti e vi sia stato utile l'allo intanto è ancora qui perché perché ha deciso così quindi niente noi ci vediamo la prossima volta e arricchite anche voi questo video con le vostre proposte qua sotto nei commenti scrivetemi tutto ciò che mi consigliate anche perché appunto ripeto quest'anno voglio aver modo di leggere altri renaudi e perché no altri ad elfi magari un po meno citati in modo da poter avere consigli nuovi e magari un pochino meno famosi per l'anno prossimo e farvi quindi dei video doc a piccolissima postilla finale prima che la batteria si scarichi tantissimi di questi romanzi sono anche in audiolibro su audible quindi se siete indecisi se acquistarli o meno un piccolo consiglio che vi posso dare è quello di prima dare un piccolo ascolto al libro sull'audiolibro appunto e vedere se può piacervi oppure no piccolo consiglio che mi sento di darvi in caso appunto vorreste vedere se questi libri sono meno di vostro gradimento io e lallo vi salutiamo ciao c'è il mio patatino qua ma grazie amori grazie c'è il mio patatino qua ma grazie a tutti